Da quando abbiamo creato il configuratore con intelligenza artificiale per aiutarvi a configurare al meglio le vostre build, sono stato molto attento su questo mercato e ho analizzato quotidianamente tutte le possibilità per renderlo il servizio migliore possibile. E ovviamente ci sono build più richieste di altri, chiaramente nella fascia bassa in particolare tanti di voi ripongono il più della loro attenzione. E la build da 1000 euro per l'ambito del gaming è forse una delle più discusse. E da quando abbiamo iniziato a lavorare con il configuratore ad oggi, ho notato un cambiamento costante in questa fascia di prezzo e nelle due direttamente limitrofe da 900 e da 1100 euro e questa cosa effettivamente mi ha molto incuriosito. Perché? Perché c'è stata un'oscillazione di mercato negli ultimi due o tre mesi che effettivamente ha ribaltato completamente quello che si può fare con questo budget, andando a renderlo nettamente, ma dico nettamente, meglio rispetto agli anni precedenti. Ma bisogna fare dei sacrifici un pochettino poco ortodossi. Quindi ve lo dico, ora vi spiegherò la build che non, non dovreste fare, o perlomeno non è quella giusta, però al tempo stesso è molto molto interessante. Vediamo un po' la situazione. Prima di tutto ragazzi, come vi citavo prima, il nostro configuratore è a vostra disposizione per realizzare le vostre build, che siano gaming, produttività, ufficio o che abbiate budget o preferenze differenti su colore, formato o anche semplicemente di CPU o GPU, quale brand preferiate, potete trovare tutto all'interno di Modern Tech Build. Pochi secondi e pochi click vi separano dal vostro prossimo PC, direttamente e facilmente acquistabile su Amazon, con poi tutti i benefici della garanzia che garantisce il colosso di Seattle. Quindi di per sé potete andare tranquillamente a comprare il vostro prossimo PC garantendovi l'esperienza di Modern Tech abbinata a un pochettino di intelligenza artificiale. Link in descrizione. Ora parliamo un pochettino di sta build a 1000€. Allora, la situazione attuale è che nei giorni precedenti mi sono voluto un pochettino appellagare il discorso del trovare la soluzione più sbilanciata ma al tempo stesso interessante per la fascia di prezzo di 1000€, che è probabilmente una delle più richieste in assoluto. Perché alla fine, anche con i recenti incrementi di prezzo definiti nel mondo delle console da prodotti come per esempio PS5 Pro, effettivamente si è iniziato a capire che 800, 900 e 1000€ in totale siano forse il reale budget che molte persone saranno costrette a spendere per il gaming nei prossimi anni. E pertanto vediamo un pochettino. Se io ragazzi, come diciamo esperto, vi dovessi consigliare una build oggi intorno a questo budget, chiaramente farei delle valutazioni che mettano insieme da una parte quella che è la qualità della piattaforma su cui andremo a operare e dall'altro ovviamente spremere il maggior numero di FPS possibili dal nostro budget. Il concetto basilare da capire ragazzi è che AM5 al momento rappresenta quella che è la piattaforma più longeva in assoluto. Perché? Abbiamo visto un po' la presentazione di Intel Arrolick e abbiamo capito che almeno per quanto riguarda la parte alta, che comunque non riguarda questa fascia di prezzo, decisamente non saranno dei processori interessanti per il contesto del gaming, per quanto temperature, consumi, produttività e intelligenza artificiale siano migliorati notevolmente. Mentre AM5 dal suo lato ha già sfornato tre generazioni e sta aspettando la quarta con i 9000X3D per appunto raccontarci un pochettino meglio il mercato del gaming. E devo dire che tolti 9000 nell'ambito del gaming alla fine non se la sono cavata poi male. E il loro supporto sarà effettivo fino al 2027 con tutti i prodotti che usciranno. Quindi ancora potete aspettarvi i 9000X3D, i 10.000 e i teorici 10.000X3D. Quelli staremmo un pochettino a vedere. Ad ogni modo almeno altre due generazioni su questa piattaforma potete aspettarvele. E ovviamente vi permette anche l'accesso a tecnologie come banalmente le DDR5 e la PCI 5.0 che magari in un futuro ci faranno beneficiare di qualcosina in più rispetto a rimanere sulle classiche DDR4. Soprattutto nell'ambito della produttività principalmente si ottengono dei vantaggi. Nel gaming diciamo che comunque si inizia a sentire qualcosina ma dipende un pochettino dal contesto gioco e risoluzione che andremo a utilizzare. E pertanto in una fascia come i 1000€ il 7600 piccolo Ryzen 5 sarebbe sicuramente il candidato ideale. Consumi bassi, temperature basse, un'ottima prestazione in game che permette di giocare sia 1080p che 1440p anche competitivo in maniera più che egregia affrontando anche schede video magari di fascia interessante come una 4070 Super come combo senza causare bottleneck che effettivamente inficino l'esperienza. Dipende poi dal titolo, dal gioco, dalla risoluzione e cose varie però sappiamo che più o meno l'esperienza è valida con questo processore. Però di recente si sono due candidati che si sono un pochettino affiancati a questo 7600. Da una parte abbiamo avuto una riduzione di prezzo su quelli che sono gli intel di quattordicesima generazione, specialmente nella fascia alta dove il 14600K ha iniziato a posizionarsi in maniera super aggressiva, accompagnato dal 14700K. Però effettivamente in realtà a noi interessa un altro processore, ma vi dico subito, metto le mani avanti, non è così interessante. Sto parlando del 14400 che attualmente più che altro è tornato alla riscosta insieme a tutti gli suoi altri fratelli perché ci sono diverse B760, quindi già pronte con il BIOS per allocarli, che sfruttando le DDR4 o anche le DDR5 si possono trovare comunque ad un budget abbastanza interessante. E questo riposiziona un pochettino il nostro 14400K che ha prestazioni più o meno, poco inferiori, del 7600 ad un budget interessante. Ma come potete vedere in questo grafico in realtà c'è un terzo candidato che dovremmo tenere in considerazione e che è molto, molto interessante per il nostro piccolo esperimento di oggi. Sto parlando del 5700X3D che non è un processore nuovo ed è allocato su una piattaforma più morta di quella di Intel, sto parlando di AM4, che ha già un erede, cioè le schede 600 che sono poi state affiancate dalle schede 800. Però di per sé AM4 ancora meno duro per diversi motivi. Prima di tutto tecnologia X3D che garantisce dei benefici in game veramente molto interessanti, con un 5800X3D e 5700X3D che effettivamente ancora danno filo da torcere a processori come 7700, 7600 o anche semplicemente i nuovi arrivati, 9600 e 9700. Non si avvicinano esattamente alle loro prestazioni, ma nel caso della fascia bassa più che altro di Ryzen 5 sicuramente si possono notare dei testa a testa molto interessanti. La cosa ancora più valida è che di recente è arrivato l'update 24H2, che inizialmente si prospettava avrebbe dato soltanto dei benefici alla nuova generazione di Ryzen 9000, ma effettivamente ha dato poi un'esplosione di performance in più a tutti quanti, inclusi i Ryzen 5000 e incluso all'interno della stessa, il 5700X3D, che come potete vedere da questi grafici di Texpot ha guadagnato delle prestazioni veramente valide, andando ad allinearsi a quello che alla fine era il piano prestazionale del 9700X al lancio, molto simile a sua volta al 7700X, dandoci quindi delle prestazioni extra che però ovviamente vengono poi affiancate e superate da quelle degli stessi processori che beneficiano dello stesso incremento prestazionale di circa il 5-10% in base ai titoli. Quindi, mentre i 9000 e i 7000 si sono comunque allontanati dello stesso livello dal 5700X3D, Intel non ha fatto la stessa cosa, in quanto il 24H2 non causa dei benefici uguali a quelli che invece ha visto Ryzen, ma su Intel, su nessuna generazione. Ci sono dei casi che effettivamente possono dimostrare che il 14600K o altri processori abbiano avuto dei benefici da tutta questa situazione, ma al tempo stesso AMD è quella che effettivamente ha preso più punti da questo. E quindi qual è il concetto? Vi spiego un pochettino provando a fare delle build con voi. Quindi i nostri tre contendenti qui sono il Ryzen 5 7600 nuova generazione, l'Intel Core i5 14400 e il Ryzen 7 5700X3D della vecchia generazione. Se in questo momento io cercassi di creare una piattaforma con il 7600 spenderei circa 471 euro, andando un pochettino a risparmio con una B650 che mi permetta però l'accesso alle DDR5, uno dei pro principali di questa generazione assieme alla PCI 5.0 e ovviamente anche ai consumi bassi e molto morigerati che causano poi delle temperature molto più contenute del 7600 in questione. Una generazione che ancora ha tanto da dare, però viene contestata in termini di prezzo da entrambi gli altri contendenti. Da una parte abbiamo il nostro 14400F che si trova attualmente a 183 euro e ci permette di fare, a parte, una build DDR4 con circa 358 euro, mentre quella DDR5 ci porterà via circa 425 euro. Ma in ogni caso siamo a distanza di 113 euro per quanto riguarda le DDR4 e di 46 euro per quanto riguarda le DDR5. Poi abbiamo il nostro 5700X3D che è un processore che avvantaggia veramente tanto il costo, in quanto sperimenta da una parte sfruttare le DDR4, ma soprattutto di recente è possibile reperirlo anche su siti esterni ad Amazon ad un prezzo veramente molto più interessante, come per esempio Aliexpress, dove al momento in cui sto facendo questo video si trova a 170 euro, ma ho testimonianze di persone che siamo riusciti a portarselo a casa a 150, un prezzo veramente molto competitivo, con ovviamente poi da parte da dire tutti i vantaggi e svantaggi della piattaforma, però di per sé per adesso prendiamo in prensurazione i prezzi. Per quanto riguarda farselo su Amazon, il 5700X3D con tutta la sua piattaforma ci costerà 367 euro, mentre sfruttando le offerte di Aliexpress andremo a una circa una quarantina in meno, 43 euro, arrotondiamo 327 euro per la piattaforma. Ed è chiaro che la situazione qui inizia a farsi interessante. Chiaramente ragazzi la cosa principale da tenere in considerazione oltre a pro e contro delle piattaforme che possono essere più o meno interessanti per la maggior parte del pubblico, effettivamente una cosa molto importante è che qui siamo in un contesto di budget abbastanza stretto. Se io provassi a fare esattamente la stessa build con tutte queste tre CPU, il primo candidato che eliminerei completamente sarebbe in assoluto Intel. Perché alla fine le sue prestazioni in gioco sono abbastanza simili a quelle del 7600, ma al tempo stesso inferiori a quelle del 5700X3D che troneggia su entrambi. Nel lato della produttività potrebbe essere un ibrido interessante, ma effettivamente viene leso dal fatto di utilizzare le DDR4. E se volessi passare alle DDR5 sarebbe comunque un costo ulteriore che mi toglierebbe poi budget per fare quello che è la cosa più infima ma contemporaneamente interessante per le prestazioni finali che vogliamo ottenere. Ovvero prendere una scheda video veramente molto potente. In pratica ragazzi facendo un po' di conti poniamoci il budget di circa 1000€ con un'oscillazione del più o meno 5% come possibilità di insomma margine. Quindi possiamo arrivare magari a un 1050, 1060€. Sfruttando questo margine di manovra possiamo andare a creare una build con il 7600 che ci permetta di avere una 6750XD. Scheda video tuttavia interessante, 1080p più che degno e magari alcun approccio al 1440p con qualche sacrificio qua e là. Soprattutto con l'arrivo dell'FSR, questa è una scheda video che è tornata molto interessante. Però al tempo stesso dobbiamo valutare che il nostro 5700X3D ci permetterà di fare una piattaforma migliore in prestazioni di CPU e in prestazioni della scheda video prendendo un 5700X3D abbinato a una 6800 che ci costeranno 1012€. E quindi di per sé ci portiamo già a casa una build con migliori prestazioni perché la 6800 è meglio della 6750XT e il 5700X3D è meglio del 7600. Il tutto ad un costo inferiore. Però allora mi sono chiesto e se sfruttassi Aliexpress in questo caso? Beh ovviamente il 5700X3D mi verrà a costare meno. Precisamente la build totale mi costerà 972€ sfruttando questa piattaforma. E questo mi fa scattare un'altra lampadina in testa che mi fa dire e se provassi ad avvicinarmi al budget del 7600 che mi ero preposto di poter spendere per ottenere una scheda video ancora migliore? E qua raggiungiamo la build che non vi consiglio di fare però occhiolino occhiolino molto interessante. Infatti se prendiamo su Amazon una 7800XT e il 5700X3D spenderemo 1117€ ovvero circa 59€ in più del 7600. Diciamo che è una spesa interessante per le prestazioni che otteniamo perché comunque la 7800XT è una buona scheda molto valida e il 5700X3D regge benissimo a starle dietro perché comunque il 7600 non ha casi di bottleneck ed è leggermente inferiore in termini prestazionali di quest'ultimo ma al contempo ho sforato il budget in una maniera incredibile. Però abbiamo ancora un asso nella manica 180€ del 5700X3D su AliExpress che ci riportano esattamente a circa 1070€. Ora io se dovessi fare bene questa build spenderei 1300€ ci metterei un 7600, una B650, tutte le cose carucce, le DDR5 e poi c'ho la piattaforma che posso portare avanti e tutto quello che voglio. Però mettiamo che di queste cose non ve ne freghi niente. Con 1070€ voi vi portate a casa una build che di per sé performa meglio sul processore. 8 core, X3D, bella carica. I consumi comunque moderati e potete comunque fare undervolt perché le B550 che ci abbiniamo sono perfettamente valide per questo. Al tempo stesso dall'altra parte abbiamo migliorato la scheda video. Di quanto effettivamente? Beh, la 7800XT ha una differenza prestazionale rispetto alla 6750XT molto, molto grossa. Stiamo parlando di un 30%, non è poco. Soprattutto perché permette alla 7800XT di arrivare al 1440p, dove il processore inizierà a contare anche un pochino meglio in maniera molto più tranquilla. Creando quindi una build, sì, sbilanciata assolutamente, però al tempo stesso molto molto valida per il 1080p e il 1440p spendendo meno di 1100€. Dandoci un pochettino più di budget. Ma vi dico, ancora possiamo fare altri magheggi, come per esempio non prendere una B550 e prendere una B450, rivolgerci al mercato dell'usato, oppure aspettare che il 5700XT 3D scenda di prezzo su Aliexpress e magari raggiunga i 150€ che ci siamo prefissi all'inizio di questo video. In quel caso, beh, saremo sempre più vicini ai 1000€ per una build da 1440p veramente molto competitiva. Però, ehi, io ve l'ho detto all'inizio video, non è una build che dovreste fare. Diciamo che ci saranno dei link in descrizione, però non è una build che dovreste fare. Dovreste fare quella fatta bene. Però, a gente piace sperimentare. Ci sta anche. Ad ogni modo, questo è il grande dilemma della build a 1000€, ma secondo me è un qualcosa di molto interessante, perché al tempo stesso le prestazioni saranno molto elevate e le cose sono molto molto interessanti da fare. Alla fine il PC gaming è anche un po' più sperimentale, no? Alla fine non stiamo facendo niente di strano, niente assurdo. Non è che vi dovete mettere a saldare la roba. Dovete solo comprare da una piattaforma diversa. Probabilmente potreste anche mettere in valutazione il fatto che la garanzia sarà più complessa di quella di Amazon. Assolutamente sì. Molto più complessa di quella di Amazon. Però, al tempo stesso, dannazione che prestazioni. Poi, potreste aspettare che il 5700X 3D scenda su Amazon e comprarlo, per esempio, direttamente da lì, con Spedizione Prime, la garanzia ve la assicurate. Potete spendere un po' di più e prenderlo da Amazon, sono 43€ in più alla fine. Però, di per sé. Potete fare tante cose. Secondo me comunque la build che vi lascio giù in descrizione è molto molto interessante. Valutatela voi. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi stati su Mordentech. Salusa!